Let's go baby! Eh sì, oggi un altro vlog, ma state tranquilli, ora ritorneranno i gameplay, ritorneranno i video e tutto il resto, gli streaming eccetera eccetera. Come avete visto dal titolo, questo è un video con tante informazioni. La prima informazione è che, non so se alcuni di voi hanno visto su Twitter o Facebook, ma sono stato selezionato per la World Cup di Overwatch, i cosiddetti mondiali di Overwatch. Sono stato selezionato, ho passato la selezione, diciamo, dei vari giocatori italiani e ora sono nella fase quella a voti, dove potete votare il vostro buon power e ben altri tre giocatori. No scherzo, potete votare chi volete, ovviamente la scelta è vostra e libera. Se volete lasciate un voto, vi lascio il link qui sotto, quindi non vi preoccupate. Spero di andarci, mi sto impegnando tantissimo, gioco più o meno 10, a volte anche 12 ore Overwatch, non me ne vergogno di questo perché è una cosa che amo fare, mi piace fare e voglio farla. Mi sto impegnando tantissimo, sto avendo un miglioramento incredibile e spero di continuare così, di salire sempre di più. Ho raggiunto il livello, il grado 79 in ranked, mi mancava un'attacca all'80, non sono entrato in top 500, non so per quale motivo, però non mi interessa. L'importante è che miglioro io, riesco ad entrare in un team, riesco a giocare, cominciare a fare tornei, eccetera, eccetera. Specialmente voglio andare a questo maledetto Blitzcon a giocare questo Overwatch World Cup, questi mondiali, far parte della nazionale. Sarebbe un risultato grandissimo per me. Oltre a questo, ragazzi, vi voglio dire anche altre novità che ci sono. Oggi sarà un altro streaming, non vi preoccupate, quindi sempre su Twitch, metterò il link come al solito su Twitter e Facebook, quindi mi vedrete online, state tranquillissimi. Non vi dico ancora su cosa, non so se No Man's Sky o Overwatch, ieri o No Man's Sky, devo dire la verità. Per quanto sia un gioco che apparentemente sembra noioso, specialmente se giocato da solo, giocato su Twitch, con voi che chiacchiero, facciamo battute, diciamo cazzate, mi sono divertito un botto, ragazzi. Vi giuro, penso che mi sarei molto annoiato se avessi giocato da solo, quindi grazie a voi che siete stati in streaming. Mi sono divertito tantissimo, specialmente quando date Apula Intergalactica, i marivoli napoletani, così che facevamo i parassiti del, come si può dire, dello spazio, eccetera, eccetera. Mi sono veramente divertito. Poi le cose che capitavano che non capivo e stavo là impazzivo e sbroccavo. Poi l'effetto di, non so come dire, mi sentivo perso all'interno di quel gioco, è così vasto, così enorme che io mi sentivo perso. Comunque mi sono divertito un sacco. Non so se farò quello overwatch o forse entrambi. Oltre a questo, un'altra cosa che bisogna dire, boys, che forse avrete già visto sui vari social, abbiamo messo qualche immagine, io vi vado un pochino nascosta, ma, bene, dal 30 al 5 settembre, dal 30 agosto al 5 settembre, con ritorno qui in Italia al 6, saremo a Los Angeles, bitches. E voi direte, cosa farete a Los Angeles? Bene, ragazzi, saremo a Los Angeles per il Code XP, per i più furbi che sanno le date, quelle sono le date del Code XP, ma non saremo solo al Code XP così a buffo a fare gli youtuber, i fighetti o i tizi dell'esport, saremo là per commentare in italiano il Code XP, il torneo più importante di tutti i tempi. Per la prima volta, anzi, non per la prima volta, per la prima volta, questo torneo così importante è stato messo a fine stagione di Call of Duty, quindi in modo che tutte le esperienze dei vari giocatori, tutti i giocatori si siano impegnati durante l'arco dell'anno, della stagione di Call of Duty Black Ops 3 per arrivare qui. E non solo, questo sarà per la prima volta il torneo più grande di tutti i tempi, con più di 2 milioni di montepremi, con un milione e passa per il vincitore. Ragazzi, questo è il torneo che tutti aspettavano, è il torneo più grande di tutti i tempi di Call of Duty, e saremo lì a castarlo, io e Rampage. E voi direte, cosa farete, cosa farai, eccetera, eccetera. Bene, avremo Ivan che farà il cast play by play, lui ovviamente è esperto, lo fa da tempo, ha studiato anche per fare il cronista, telecronista, caster, come lo volete chiamare, e io invece farò il commento tecnico, come ho fatto alla Code War League, quindi sarò quello che durante il game magari commenterà alcune giocate, spiegherà alcune cose, farò i pronostici, vi spiegherò magari alcune tattiche, alcune cose, o come andranno a giocare determinate team. Ovviamente con la mia conoscenza del gioco da ex Code Pro Player, e anche ovviamente per quello che ho imparato facendo l'analista alla Code War League. Creeremo quindi qualcosa di professionalissimo per questo evento, qualcosa di esagerato, perché su quel momento Call of Duty ci ha dato, anzi Activision, ci ha dato la possibilità di farlo, è il momento di sfruttarlo, se volete l'esporto in Italia di Call of Duty dovete supportare questa cosa, come tutti, dovete dare il massimo, ragazzi, come facciamo noi. Io non vedo l'ora di questo progetto, come vi ho detto, ho smesso di giocare a Call of Duty, ma allo stesso tempo sono sempre all'interno di questo ambiente, cerco di fare sempre qualcosa, e speriamo che questo possa aiutare, e dare un calcio all'esport di Call of Duty in Italia per la stagione di Infinity Warfare. Comunque ragazzi, spero che questa news non vi abbia scioccato abbastanza, spero che andrete a votarmi per il BlizzCon, per andare a giocare i mondiali di Overwatch, spero che verrete a seguirci su Dexerto, in questo caso su Twitch Dexerto Italia, per lo streaming del Code XP. Beh ragazzi, un saluto, non c'è nient'altro da dire, abbiamo detto tutto questo video, è pure troppo lungo a mio parere, e niente ragazzi, due cose, la mia ragazza, Braga, mi sta premendo tantissimo da tornare a fare video, streaming, e da una parte ha ragione, ha ragione perché è una cosa che a me piace fare, non la facevo perché ero un po' abbattuto, sono stato male, il fatto che mi devo muovere in Francia, in continuazione, eccetera, eccetera, e raga, mi mancava comunicare con voi, non è una cosa, come vi ho detto in YouTube, non l'ho mai fatto per i numeri, per queste cose, anzi, forse era più per un appagamento personale, perché volevo far nascere l'esport, crearlo, e perché mi piace condividere le cose con voi, che ormai mi seguite da tempo, e perché penso di avere uno stile tutto unico mio, e non sono come gli altri che trovate su YouTube, diciamo che sono un pochino qualcosa di strano, di particolare. Quindi spero che vi divertiate, ora inizia questa nuova esperienza, Overwatch, War Cup, speriamo di andarci, inizierà anche questo commento per il Code XP, e speriamo che questo casting, diciamo, questo streaming del Code XP in italiano, lanci l'esport in Italia di Call of Duty, e speriamo che abbia un grande successo, in modo da far muovere Activision Italia. Io ho un ringraziamento in questo caso da Activision, da Giacomo specialmente, e ragazzi, non c'è niente altro da dire, io mi sono quasi ripreso, se nerda Overwatch, se vince, se va al Code XP a streammare, e se pusha Code in Italia. Let's go baby, good shit! Grazie a tutti!